ciao amici di pesce nudo è ora di colazione volete farvi un bello vetro strapazzato un scramble axe di solito usate questo oggetto qui vi viene male al polso non va bene questo qui non si usa più adesso c'è questo questo qui è l'oggetto del futuro per fare l'uovo strapazzato mettete l'uovo qui dentro chiudete dopodiché mettete nella padellina bella calda e poi è pronto lo vetto mi raccomando non mangiatevi questa pallina perché non è commestibile e anche un prodotto mi raccomando acquistate questo super oggetto pesce nudo.it united state o come grazie